Noi oggi viviamo purtroppo un periodo difficile, un periodo di guerre. Io sono ucraina di origine, vivo in Italia da vent'anni e quindi non parlo oggi solo per la guerra in Ucraina, ma per tutte le guerre del mondo. Oggi faccio un appello a tutte le donne perché la donna è la portatrice di vita, quindi quante donne hanno i figli che stanno combattendo, quanti madri, quanti mogli hanno mariti comunque che stanno combattendo. Io faccio a tutte le donne del mondo, le mamme, a donne del marito e di potere per dire firmiamo queste guerre perché tanta gente sta morendo. Noi siamo un popolo che siamo stati evasi, quindi non cercavamo la guerra. Quindi faccio appello a tutte le donne, anche ucraine, a tutte le donne che stanno al potere, che per piacere fermiamo questa guerra. Portiamo la pace. In questo momento storico ritengo sia importante concederci la forza di parlare di pace e di cominciare a farlo nelle nostre case. Questo è un compito molto importante e un'altra concessione che chiedo è quello di farlo alle donne, alle mamme, alla parte femminile della società che ha proprio a sé avvocato il pensiero dell'accoglienza, dell'accoglienza e della produzione di pace, di pensieri positivi, di pensieri buoni, che sanno di buono e che faranno crescere quindi questa società. Quindi non parliamo di valori negativi, non parliamo di concetti come guerra conflitti, ma parliamo di pace, orientiamoci proprio alla costruzione quotidiana della pace vicino a noi, sempre più lontana. Oggi, visto che la giornata è piena del sole, vorrei che queste sole arrivasse a tutti i paesi del mondo, soprattutto quelle che stanno in guerra, perché ho la consapevolezza che tutti noi abbiamo bisogno della pace, soprattutto i bambini, bambini, donne, uomini innocenti e io spero che questo messaggio arrivi a chi da dovere e chieda a tutti pace, pace per tutti. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti.